E ora l'investigatore fagiano. Sono Walter, l'assistente dell'investigatore fagiano. Non c'è caso che lui non possa risolvere. Oh, Simon, qui c'è stato un omicidio. Abbiamo trovato questo indizio. Cosa ne pensi? Vero, vero, è chiaro che il colpevole era una donna. E quindi tra questi presenti dobbiamo escluderne la metà. Su, fate come dice il fagiano, muovetevi tutti. Scoprirà il colpevole. Lo fa sempre. Dopo un'accurata osservazione di tutti, l'investigatore ha deciso. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, non pensavo fossi tu George. E invece sì, perché si sa i cavalli sono persone orribili. Un problema.